Benvenuti! Questa è la parte strana di YouTube. Di certo saprete che ai giapponesi non piacciono le cose semplici, tutt'altro. Quindi si sono inventati questo metodo molto lungo per tagliare un cetriolo e renderlo da molto duro, praticamente ammorbidissimo. Ecco, simile a un serpentello. Questo invece è un gruppo di pinguini che ha sgamato una telecamera spia e adesso la sta bullizzando. Quest'uomo invece è affetto da focomelia, una grave malformazione che impedisce lo sviluppo degli arti superiori e o inferiori. Non si può dire però che non sia autoironico, indossando infatti una maschera da T-Rex con le sue braccine suona la batteria. Questo invece è attualmente il gioco più bello al mondo. Non so di cosa si tratti, se sia reale o no, ma lo voglio. Queste sono delle riprese in 8K del Giappone. Certo, il mio video non è renderizzato in 8K, però sono ugualmente bellissime. A me piace tantissimo guardarle di tanto in tanto. Questo invece è il tragulo minore. Vorgalmente detto anche cervotopo, per via delle sue dimensioni raggiunge infatti la lunghezza massima di 40 centimetri e l'altezza di 20 centimetri. È vegetariano e vive nelle foreste pluviali di tutta l'Asia sudorientale. Ed è davvero molto carino. Guardiamoci ora un po' di coniglietti tenerini che bevono il latte. Dunque anche questo video è giunto al termine. Spero vi abbia divertiti e allo stesso tempo fatto conoscere qualcosa di nuovo. Dunque in tal caso non dimenticate di lasciare tanti mi piace per vederne un prossimo. Ciao.